Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico oggi è il 31 gennaio 2023 bitcoin 23.100 dollari in questo momento quindi ragazzi siamo arrivati a poche ore dalla chiusura del mese di gennaio guardiamo la situazione come si è modificata rispetto a ieri guardiamo il fear and greed index guardiamo l'S&P 500 e anche il DXY quindi la forza relativa del dollaro perché sappiamo che il mercato delle crypto è inversamente correlato appunto al dollaro quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi ragazzi iniziamo a guardare bitcoin time frame giornaliero bitcoin sta per chiudere dicevamo il mese di gennaio con un importante uptrend infatti come già commentavamo ieri praticamente bitcoin fa un mese in un mese più 40 per cento andando a includere nel suo uptrend molte delle candele ribassiste precedenti quindi stiamo per confermare effettivamente una candela sul mensile che sarà una bullish engulfing inoltre abbiamo il prezzo che ha recuperato la media dei 200 giorni che è sicuramente riconosciuta come un importante spartiacque tra un uptrend e un bull trend questa linea che vedete qua in blu ma siamo anche in prossimità di un golden cross plausibilmente in arrivo nei prossimi giorni magari la prossima settimana quindi sicuramente un po' di segnali interessanti per i bulls questo non vuol dire che il prezzo debba continuare a salire ma possibilmente quelli che saranno i ritracciamenti potrebbero essere effettivamente dei ritracciamenti all'interno di un nuovo uptrend se guardiamo invece le volte precedenti in cui c'è stato questo tipo di incrocio eravamo qui prima dell'all time high quindi prima che bitcoin facesse l'all time high a 69 mila dollari poi abbiamo il precedente golden cross qui per cui anche qui è un importante uptrend che parte con questo golden cross logicamente non sempre il golden cross porta ad un uptrend per esempio in questa circostanza ha anticipato invece l'importante crash che c'è stato in prossimità della notizia del covid quindi fatto salvo forse cini neri ma storicamente questo tipo di incrocio rappresenta plausibilmente l'inizio di un importante uptrend e vediamo che in questo momento abbiamo avuto un piccolo ritracciamento nella giornata di ieri infatti la candela di ieri scende fino ai 20 2005 oggi recuperiamo leggermente è assolutamente plausibile che bitcoin veda un ritracciamento perché appunto il mese è stato sicuramente molto performante più 40 per cento abbiamo diverse divergenze regolari in diversi time frame minore quindi dalle 4 ore al giornaliero e quindi ancora assolutamente plausibile che bitcoin torni eventualmente a testare magari i 200 giorni o addirittura i 50 giorni quindi plausibilmente anche addirittura sotto i 20 o i 19.000 dipende se quanto sarà profondo il ritracciamento fatemi sapere cosa ne pensate se invece guardiamo il s&p 500 quindi mercati finanziari tradizionali americani ci sono buone notizie guardando il time frame settimanale perché abbiamo avuto 1 2 3 e 4 praticamente lower high e 1 2 3 e 4 lower low sul settimanale e invece adesso la situazione sta leggermente cambiando per cui abbiamo messo segno un higher low quindi questo minimo è più alto del precedente e anche un higher high seppur forse di pochissimo oppure un equal high praticamente quindi un massimo uguale a quello precedente quindi la struttura sta iniziando a cambiare abbiamo violato questa trend line di resistenza e stiamo per adesso trovando il supporto della media mobile delle 50 settimane quindi non siamo messi così male sui mercati finanziari tradizionali se guardiamo la struttura e anche la media mobile delle 50 settimane in ultima ragazzi guardiamo il dollaro sappiamo che il dollaro è inversamente proporzionato sostanzialmente alla performance dei risk asset per cui tendenzialmente quando il dollaro è in uptrend i mercati soffrono incluso bitcoin quando il dollaro invece è in downtrend bitcoin praticamente è in bull market lo si vede chiaramente durante questa fase che il dollaro scende e corrisponde un po' al bull market del 17 in questa fase invece il dollaro scende e corrisponde al bull market 20 21 qui vediamo che il dollaro sembra aver topato in zona 114 abbiamo visto un importante downtrend il dollaro ha perso praticamente l'11% dal massimo bitcoin sta reagendo da inizio anno ma quello che è interessante che volevo farvi notare che questo tipo di movimento potrebbe essere effettivamente l'inizio di un decisamente più prolungato downtrend per il dollaro perché siamo plausibilmente in prossimità intanto di una chiara divergenza divergenza veri sul macd perché abbiamo un i un higher i mentre il macd crea invece un lower i quindi abbiamo un importante divergenza sul macd mensile e abbiamo plausibilmente l'arrivo di un incrocio bearish sul macd mensile ovviamente ragazzi è time frame mensile questo ovviamente vuol dire che nel lungo termine plausibilmente il dollaro perderà contro bitcoin ovviamente nulla esclude che ci siano all'interno di questo trend importanti ritracciamenti ma sempre comunque all'interno delle trend plausibilmente ribassista per il dollaro ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao Ciao Ciao